Recessione imminente, Bitcoin e le cripto crolleranno. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Parliamo di questo argomento perché nell'ultimo video mi avete dato un commento, mi avete commentato parlando proprio della questione recessione che in effetti, secondo alcuni indicatori, potrebbe risultare una questione imminente dell'anno 2025. Ci sono una serie di riflessioni da fare sulla questione della recessione economica e come questa recessione potrebbe in effetti impattare su Bitcoin. Sicuramente c'è molto timore da questo punto di vista, già dal mese di agosto infatti i titoloni dei giornali indicavano un po' i timori della recessione e le cripto correlate appunto a questo timore per la recessione che perdevano e andavano down e abbiamo visto che comunque nel mese di agosto le cose non sono andate benissimo e settembre non è iniziato nel migliore dei modi anche se è un po' da attese questa cosa qui. Però andiamo a fare un'analisi deep approfondita su questa tematica, quindi andiamo a guardare quelli che sono i grafici e i dati importanti per un'indicazione relativa alla recessione, facciamo un po' di story, quindi quello che è successo negli anni passati nel mondo economico, lo raffrontiamo con Bitcoin per cercare di rispondere a questa domanda. Bitcoin può essere in effetti influenzato dalla questione di recessione economica? Sì e no? In che misura? Cerchiamo di ragionare e tirar su quelle che sono delle conclusioni il più possibile oggettive. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi, è un video molto strafigo e ci ho messo un po' di ore per fare questa cosa qui, quindi mi raccomando lasciatemi i pollicioni ovviamente perché voglio sapere anche se apprezzate questo tipo di contenuti sempre trasversali, un po' meno tecnici da un punto di vista di trading, un po' più importanti da un punto di vista macroeconomico. Quindi su quei pollici fatemi vedere se vi piacciono questi contenuti. Allora, intanto io partirei dall'analisi del concetto se la recessione economica può essere considerata una cosa imminente, sì o no. Ci sono diversi fattori che possiamo andare ad analizzare, diversi dati, i più importanti sono quelli relativi al tasso di interesse della Federal Reserve perché è un dato derivato, cioè noi lo andiamo ad analizzare in quanto diamo per scontato che la Federal Reserve Banca Centroamericana abbia dati decisamente migliori dei nostri per la questione recessiva e quindi dal comportamento del tasso di interesse della Banca Centroamericana ne deduciamo anche un atteggiamento sulla possibile avvento o meno della recessione. Allora, andiamo a vedere la questione legata a un grafico molto comune che guardiamo spessissimo, l'abbiamo guardato anche qualche annetto fa, relativo al momento in cui i tassi erano alzati. Allora, vi zoom un po' il grafico così lo andiamo a spiegare. Queste zone grigie che vedete ragazzi sono le diverse recessioni che sono avvenute in questo periodo di tempo quando c'è questo grafico, parliamo del 55. In ogni caso, quello che è conto ed è la cosa più importante sono sicuramente le recessioni quelle un po' più vicine a noi e non quelle tanto lontano, però concettualmente il discorso è veramente banale, molto semplice, ma è un dato un po' scontato. Ogni volta che i tassi di interesse aumentano per un determinato lasso di tempo poi dopo un po' arriva una recessione economica. Niente di trascendentale, questo grafico mostra essenzialmente questo. Se non, poi parliamo del super rinalzamento dei tassi di interesse che ha visto il mondo, quello degli anni 80 dovuto ovviamente al fatto che siamo usciti dal gold standard e quindi c'è stata una ipervalutazione delle monete che sono diventate non più monete ma valute e a quel punto abbiamo assistito a questa cosa che ovviamente non può essere paragonata al mondo attuale. In ogni caso anche qui guardate un po' innalzamento dei tassi, recessione, innalzamento dei tassi, recessione, innalzamento dei tassi, recessione, stessa cosa, stessa cosa, bla bla bla. Non è mai stato diverso, ma va. Questo perché ragazzi? Perché l'inalzamento dei tassi, questo è un po' il giochino, prima luogo o poi la gallina, l'inalzamento dei tassi porta sostanzialmente ad una recessione economica. vengono alzati apposta, cioè proprio per creare una recessione economica. Quindi qui è una questione matematica. Il problema infatti non è se questa recessione avverrà, ma è in che misura una recessione economica può impattare sull'economia reale e in termini di crash anche dei mercati finanziari. È quello l'importante. Non è tanto il concetto se arriva o meno la recessione. Dopo il rialzo dei tassi di solito arriva una recessione anche perché le banche centrali tentano quella strada proprio per fare in modo che i prezzi si calmino. Quindi nel momento in cui io devo calmare i prezzi e l'inflazione devo creare una recessione economica. Più la creo gentile, facciamo così, diciamo, usiamo questo termine, più quella recessione economica, più il mio lavoro, la mia attività da, diciamo, gestore, di politica monetaria è corretta, diciamo, in sostanza è così. Questa cosa non è però sempre facilissima, tant'è vero che le banche centrali a volte hanno anche dei problemini, diciamo, da questo punto di vista. Infatti, per esempio, nell'anno della grande recessione, quella che ha toccato il mondo dal 2007 al 2009, c'è stata una difficoltà delle banche centrali a percepire questo rischio, però lì era legato a una politica scorretta da parte delle banche commerciali che erogavano prestiti e mutui a tassi su Prime e questo dava a loro, diciamo, un meccanismo di copertura dal rischio riversandolo sul mercato, una cosa complessa che però ha generato poi la grande depressione, la grande crisi che noi abbiamo vissuto dopo gli anni 2009, ragazzi, e quella poi anche della politica dei tassi zero, l'unica nella storia del mondo, no, che ha visto anche le grandi impennate dei mercati finanziari classici di quegli anni. Allora, questo dato, questo grafico, va anche correlato a quest'altro grafico, cioè quello del tasso di disoccupazione perché è molto più importante ragionare sul tasso di disoccupazione che invece, rispetto al grafico precedente che è un grafico che è appunto prima l'uovo poi la gallina perché vi dice se alzano i tassi arriva la gestione perché appunto il rialzo dei tassi induce la gestione. Qui invece abbiamo un dato più importante è il quando, cioè più sale il tasso di disoccupazione più questo dato ci indica che siamo vicini al punto in cui arriva la recessione economica. Ora, il tasso di solito negli ultimi vent'anni che ha sviluppato una recessione economica, quello americano, è sopra il 5% o intorno al 5%. Ovviamente non era così negli anni precedenti, ovviamente dipende dalla tipologia di economia, da come è strutturata l'economia, negli ultimi vent'anni cambiata tantissimo ragazzi, quindi questi dati vanno analizzati con molta cura. Non possiamo ragionare su un numero preciso perché il tasso di disoccupazione dipende da diversi fattori. In ogni caso, negli Stati Uniti d'America è un'economia basata sul consumo, essenzialmente un tasso di disoccupazione più alto induce una recessione in maniera molto più semplice. Perciò bisogna guardare il dato da questo punto di vista. Dato che proprio nella giornata di oggi è uscito ed ha indicato un tasso di disoccupazione al 4,2%. Dal mio punto di vista, un tasso di disoccupazione del genere è lontano dall'indicare una recessione imminente che probabilmente avverrà, perché abbiamo visto i dati, dopo un rialzo di tassi c'è una recessione, magari nel 2025. Adesso ne parliamo quando ragioniamo sul collegamento con Bitcoin perché vi ho preparato anche un grafico che collega i cicli dell'albing a queste informazioni. Però essenzialmente un 4,2% al momento non è che sia un tasso di grande pericolo considerando il fatto che è assalito nell'ultimo anno il tasso di disoccupazione americano ma non così tanto. Sembrerebbe che anche se ci sarà questa recessione al momento i dati mostrano che questo pericolo enorme non c'è. Attenzione, però dobbiamo vedere appunto quelli di fine anno che sono molto più importanti degli altri. Altro dato che molti guardano anche, a me non piace tanto, ora vi dico anche perché, relativo alla questione legata al tasso di recessione, la probabilità del sesso di discessione è quella relativa alla curva dei rendimenti dei bond perché la curva di rendimenti dei bond mette in relazione da un significato molto evidente, molto facile. A me non piace, adesso vi spiego perché in pratica il tasso decennale meno il tasso a due anni quando diventa negativo, cioè quando il tasso a due anni di interesse, cioè quello che parliamo, questo qui ragazzi, per essere precisi, il tasso di rendimento dei titoli di Stato americani a due anni è superiore a quello a dieci anni, cioè quello a dieci anni è inferiore in pratica a quello a due anni, allora solitamente quando si verifica una cosa del genere diventa appunto negativo, il differenziale diventa negativo, dopo un po' di tempo arriva una recessione quando le quote si ritornano a ripristinare, cioè la recessione arriva nel momento in cui il tasso a due anni diventa nuovamente più basso rispetto a quello a dieci anni, cioè quando la situazione economica si riequilibra, perché non mi piace questo grafico e lo trovo ancora una volta un grafico che indica una cosa scontata, perché i tassi dei rendimenti dei titoli di Stato sono correlati al tasso di inflazione e sono collegati anche al tasso di interesse delle banche centrali. Nel momento in cui io ho una situazione di iperinflazione o di alta inflazione, nel breve periodo avrò i tassi di interesse a due anni più alti rispetto a quello a dieci anni. Perché? Perché è scontato che il tasso a due anni essendo che ha una scadenza breve deve riflettere di più il livello di inflazione, mentre quello decennale essendo che ha una scadenza lunga dovrà riflettere il tasso di inflazione sì, però spalmato in dieci anni che sarà notevolmente più basso rispetto a quello immediato. Pensate un po' a quello che abbiamo avuto post pandemia, il tasso di inflazione schizzato alle stelle è durato due anni, ovviamente negli anni successivi le banche centrali si muovono per abbassarlo e quindi è scontato che sarà più basso nell'ordine di grandezza decennale. Perciò ancora una volta questo è un dato un po' no? Così, cioè come guardare una cosa già scritta, cioè in sostanza nel momento in cui io vado a vedere la curva che si inverte e che quindi io ho una differenziale sotto zero, in pratica mi stanno dicendo, questo grafico mi dice che abbiamo un'inflazione molto alta e che le banche centrali inizieranno a brevissimo a controbattere alzando i tassi di interesse. Poi cosa succede? Quando questo grafico si riporta sopra lo zero vuol dire che i tassi di interesse sono andati, sono diventati abbastanza alti e a quel punto abbiamo la possibilità di vedere nel breve un ribasso dei tassi perché l'inflazione è stata controllata. Quando abbiamo nel breve la possibilità di vedere un ribasso dei tassi di interesse allora ritorniamo sopra lo zero perché i tassi a due anni i rendimenti a due anni torneranno ad essere inferiori a quelli a dieci anni e in questo modo in pratica questo grafico ci indica l'acqua della bassa e scopre l'acqua della bassa sostanzialmente cioè scopre niente cioè quello che abbiamo visto cioè un dato importante i tassi di interesse nell'immediato sono previsti in ribasso quelli però a dieci anni si mantengono ancora alti ragion per cui non noi non abbiamo una visione in questo momento di pericolo grave e di ribasso dei tassi nei prossimi anni ciò significa che non dovrebbe arrivare una recessione importante questo avviene per un tot di tempo poi quando vedete avviene una discrepanza e c'è il pericolo arriva la recessione si inverte di nuovo questa curva e bam 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 cioè in sostanza il concetto è sempre lo stesso ragazzi quello che conta sono disoccupazione e tasso di inflazione queste due cose mischiate insieme creano questi grafici che stiamo vedendo ma in realtà sono sempre quelle due questioni le più importanti quindi in sostanza nel prossimo futuro arriverà una recessione l'abbiamo visto dal primo grafico perché i rialzi dei tassi fanno questo potrebbe essere una soft landing cioè una recessione leggera il tasso di soccopazione attualmente non è alto da farci pensare è un pericolo gigantesco però ovviamente andrà analizzato alla fine dell'anno perché è molto importante vedere le code di questi dati le banche centrali stanno cercando di allentare la politica monetaria prima che arrivi una recessione impattante proprio per smussare questo effetto perché hanno imparato degli errori passati e quindi proveranno a fare questo quindi abbiamo delle forze che sono un po' contrastanti l'una con l'altra a questo punto ragioniamo in un clima di arriverà una recessione probabilmente nel 2025 potrebbe essere molto leggera cioè non acuita perché le banche centrali stanno tentando quella strada i dati al momento danno ragione alle banche centrali come si comporterà bitcoin in un concetto di mondo recessivo oppure appiattito che secondo me è la soluzione migliore quella che interessa di più l'appiattimento cioè non creare tanti scossoni allora andiamo a vedere di nuovo questo grafico perché nell'ultima grande recessione non quella della pandemia che secondo me non è da valutare come recessione indotta dai tassi di interesse bensì da un evento esogeno tant'è vero che i tassi avevano iniziato a salire probabilmente saremmo stati in una situazione del genere già prima del effetto pandemico poi abbiamo dovuto ripristinare un tasso di interesse basso proprio perché è arrivata la pandemia e poi si è creata una doppia risalita però in sostanza questo evento recessivo per me non esiste in termini macroeconomici perché non ha una valenza di sedie storiche di dato legato a un ciclo economico bensì è una cosa legata a un evento esterno questo invece è un dato importante perché era legato a una fine di un ciclo economico anche se in questo caso c'era stata anche lo zampino come vi dicevo di una frode bella e buona da parte delle banche commerciali nei confronti dell'intero pianeta che hanno pagato poi i vari cittadini del mondo insomma eccetera lo sapete questa storia è inutile che andiamo a riversare ma c'è un dato allora bitcoin nasce proprio in questo periodo perché nasce contro quella fase lì cioè quello che avvenne nel 2007 2009 ha creato le basi per la nascita di bitcoin in termini non tecnologici ma concettuali cioè in termini concettuali bitcoin nasce per preservare un valore e il proprio valore la propria ricchezza proprio mentre le banche stavano facendo degli imbrogli colossali e stavano fraudando l'intero pianeta a quel punto di reazione è nato bitcoin proprio per eliminare quel sistema noi non abbiamo mai visto bitcoin in una fase recessiva perché nelle fasi recessive tra il 2007 e 2009 bitcoin lo stavano creando satoshi stava creando il protocollo bitcoin e la blockchain quindi non abbiamo visto l'atteggiamento di bitcoin asset finanziario nel momento in cui è avvenuta una iperrecessione l'abbiamo un po' notato nell'ambito della pandemia che però è esogeno un evento esogeno abbiamo magari analizziamo anche questo però abbiamo anche visto che sostanzialmente non è che sia cambiato sia stato negativo anzi positivo perciò noi non abbiamo nessun dato storico che ci fa comprendere se bitcoin può essere correlato a recessione economica e che tipo di impatto ha una recessione economica su bitcoin un altro dato importante bitcoin è essenzialmente correlato invece alla liquidità presente nei mercati finanziari ed è correlato anche agli indici di borsa e all'andamento soprattutto del nasdaq dell'indice tecnologico in un certo qual modo ma non del tutto tant'è vero che se andiamo a vedere quello che è una la tabella legata alla correlazione qui purtroppo mi dà solo 30 giorni perché il mio tool quello che ho stavo non mi dà più il dato di correlazione con sp500 qui abbiamo uno un po' più lunghetto con un rolling da 90 giorni perché 30 giorni è un dato farlocco è troppo breve ragazzi perché dipende da questioni di breve periodo già 90 giorni è adeguato l'indice di correlazione è in pratica zero però 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 nel 2022 e ve lo ricordate abbiamo avuto un indice di correlazione molto alto e anche nel 2020 torno qui al 0607 qui a metà ora un indice di correlazione con i mercati classici molto alto indica pericolo per bitcoin da una recessione perché se avverrà una recessione i mercati azionari scenderanno perché i mercati azionari sono correlati alla recessione legati al discorso degli utili aziendali che crollano durante una recessione e tanti rischi che ci sono sulle stocks o sulle azioni perciò se bitcoin poi è correlato a sp500 nasda che vedremo probabilmente un ribasso dei prezzi anche per bitcoin il problema è che dalla correlation con sp500 non abbiamo un dato oggettivo non esiste una vera correlazione è vero che nel 2019 addirittura è una negativa però negli ultimi anni che sono gli anni più importanti cioè quelli in cui bitcoin è diventato un asset vero e proprio a livello finanziario poi non dimentichiamoci che adesso ci sono anche gli etf su bitcoin stessi allora questo dato è molto impattante però nel periodo in cui sono nati per esempio gli etf questa è la curva di correlazione con sp500 in pratica è ritornato a un nulla non c'è no né correlazione inversa né correlazione positiva non c'è niente in pratica è come se in questo momento bitcoin non avesse alcun collegamento con l'andamento degli indici di borsa classici c'è anche da dire però che questo è un momento in cui noi siamo in una calma piatta una laterale gigantesco cosa succede nel momento in cui invece avviene un evento globale e macro succede questo cioè quando abbiamo avuto la questione della pandemia bitcoin si è correlato in tutte e due i momenti di nuovo all'SP500 cioè è andato a correlarsi in quella fase qui era una questione legata alla liquidità più che alla questione dei ribassi perché è vero bitcoin è trollato per un effetto riflessivo di rischio che c'era però è anche vero che si è correlato agli indici di borsa per via del fatto che gli indici salivano perché c'erano emissioni di liquidità bitcoin saliva perché c'erano emissioni di liquidità con tassi zero e tutto quello che la Fed aveva creato da questo punto di vista quindi potremmo dire che bitcoin è correlato alle emissioni di liquidità non tanto agli indici di borsa almeno questo dato lo otteniamo perciò tirando un po' le somme di questo ragionamento che lo so ragazzi è complesso fate attenzione noi abbiamo dei dati che sono molto chiari ora vediamo anche la ciclica dell'albing primo bitcoin non ha mai vissuto una recessione economica nasce proprio contro l'ultimo periodo che il mondo ha avuto una recessione importante 2007-2009 secondo bitcoin è correlato positivamente alle emissioni di liquidità le recessioni economiche sono l'anticipazione di emissioni di liquidità più siamo in recessione più avvengono emissioni di liquidità nell'immediato futuro perché le banche abbassano i tassi quindi questo dato è favorevole a bitcoin anche se nel medio lungo e non nel breve perché nel breve potrebbe esserci una correlazione dettata dalla panico e dalla paura per via del fatto che gli indici di borsa scenderanno e bitcoin a volte si correla anche agli indici di borsa e quindi potrebbe essere potrebbe avere un impatto negativo da questo in termini riflessivi poi c'è il quarto dato bitcoin non ha nessun legame con quello che è il mondo economico e il mondo legato agli utili e ai dividendi eccetera bitcoin è correlato alla liquidità e questo ve lo ribadisco alla presenza di liquidità ed è molto correlato agli istituzionali ai ricchi ai ragazzi ok alle balene molto di meno ai retail e chi subisce gli effetti di recessioni solitamente sono ovviamente i retail in termini della disoccupazione mentre i ricchi in termini di investimenti e capitali poi di solito loro si mantengono un po' di più quindi in sostanza bitcoin non può essere non può subire effetti fondamentali da una recessione perché non ha nessun legame può subire un effetto recessivo legato alla recessione negativo solo ed unicamente da un punto di vista riflessivo di collegamento con gli indici di borsa quello è l'unico anello debole che può in effetti innescare un crollo di bitcoin nel breve ma nel medio periodo l'indotto legato alla liquidità medio e lungo periodo dovrebbe poi riportare tutto verso la direzione corretta cioè una ripresa del price perché la recessione spingerebbe un'immediata riduzione dei tassi di interesse questo significa down per paura e poi stabilizzazione eventualmente è una ripresa andiamo a vedere quello che invece è il dato legato al ciclo dell'halving perché poi c'è un altro dato questa recessione potrebbe impattare quando? da metà del 2025 in poi quindi i mesi attuali bitcoin continuerà ad essere non correlato a nulla perché non vedrà questo impatto della recessione a meno che non ci siano delle sostanziali differenze dei cambi da questo punto di vista che diciamo creeranno degli squilibri di previsione il dato legato all'ultimo video che vi avevo fatto sui cicli dell'halving porta bitcoin ad avere una teorico struttura di burrano massimo finale intorno a marzo da marzo qui è gennaio a dire la verità comunque gennaio marzo del 2025 io direi per essere precisi da febbraio marzo fino ad aprile maggio del 2025 poi ovviamente sono dati sempre legati al tempo quindi possono avere la loro deviazione standard almeno un 20% va considerata sempre questo dato è molto importante perché ci pone una questione questo ciclo dell'halving potrebbe essere scorrelato all'evento recessione da parte del mondo e la recessione potrebbe arrivare proprio quando bitcoin magari potrebbe iniziare il nuovo e ultimo ciclo di bear market cioè la parte finale del ciclo dell'halving che è addirittura quello del bear market e non quello della burrano ma in sostanza nei prossimi mesi tutto dovrebbe restare invariato dovrebbe seguire questa sua linea attuale cioè chiusura di questa fase di laterale ribassista per poi tentare un nuovo affondo rialzista quindi anche se bitcoin se ci sarà una recessione nel prossimo anno potrebbe coincidere con un evento di bitcoin che è quello legato all'inizio di un bear market quindi anche lì secondo me avremo difficoltà a ragionare se è il primo luogo o poi la gallina fatemi sapere cosa ne pensate ma vi ho detto anche nel breve periodo quello che penso noi ci rivediamo nel prossimo video è un video molto lungo quindi pollici in su e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto